Tutte le sere che mi raccontava quello che faceva su posti di lavoro, era felice, era orgoglioso. Bene o male faccio anche io quel tipo di lavoro e quindi gli davo sempre dei consigli. Gli dicevo sempre di stare attento, gli dicevo sempre di stare distante da certi lavori, gli dicevo sempre di stare assieme a persone che avevano un'esperienza, che potevano dargli una mano, di non mettersi mai in pericolo. La lettera dell'Inail è arrivata a Natale. Nessun risarcimento per la morte di Giuliano De Seta, il 18enne di Ceggia, provincia di Venezia, ucciso in un incidente in fabbrica il 16 settembre dello scorso anno, mentre stava svolgendo uno stage durante il periodo di alternanza scuola-lavoro. La legge prevede che l'indennizzo sia dovuto anche ad uno stegista, ma solo nel caso si tratti di un capofamiglia. L'Inail inoltre precisa che il reddito della famiglia De Seta supera la soglia minima prevista dalla normativa per l'assegnazione di una rendita. Ai genitori di Giuliano, ribadisce il loro legale, Luca Sprezzola, dei soldi importa poco. Per loro è importante capire cosa sia davvero accaduto quel giorno. I ragazzi, lo dico anche per esperienza, ok sono tiraccinante, ok sono alternanza scuola-lavoro, ma poi gli dai due direttive e li abbandoni a se stessi. Un risarcimento sarà certamente riconosciuto, a prescindere dall'esito del processo. A pagare saranno le assicurazioni dell'azienda e della scuola, un istituto tecnico di Portogruaro. Giuliano, sulla certezza, è stato schiacciato da dieci quintali di acciaio. Era solo uno studente dentro quella fabbrica per osservare e imparare.